e so che lei ha tantissimi impegni, però cercheremo di farla ritornare a Pardolino in modo che almeno possa assaporare qualche giorno in più in questo paese a 90 anni a fare gli spettacoli di un lino, a me no, va bene, va bene, va bene grazie per il credito, grazie, grazie davvero grazie, grazie